Sì ma che cazzo è sta roba salve a tutti Ciao Giorgi che fai non saluti Oggi abbiamo qui con noi l'opera d'arte mobile Il canale dei Pantellas Sono emozionatissimo E' sti cazzi E' arrivato il mio momento di gloria Piacere sono Daniel Piacere sono lesbica E' una semplice intervista per Donna Moderna Ho solo un paio di domande Ma cosa è successo alla tua faccia? Sei tutto sporco Nulla zia ho solo pulito il cesso Ma noi non abbiamo il cesso Cosa? Wow E' incredibile E gli anni passano e cazzo ti cambiano Ma se non hai mangiato niente Prendi questa mela Dammi da mangiare Dammi da mangiare Bamba? Le volete? Butta la pasta Cosa mangi di buono? Peperoni, aglio e cipolle E' ora Tira, tira il tuo figlio Fuoco! Floutulenze? Io non credo Ma beccatevi questo MK48 di Call of Duty Struzzi Questo sì che è reale Enormemente poi Cinocchio Anche se sono un cesso irrealistico Aprimi come fossi un po' come ero Tesoro Ma non sarebbe un po' larghe? Fatti chiamare Amore mi piacerebbe un casino Ma se lo facciamo poi in un studio Domani è veramente un disastro Amore? Savaglia Ma qualcuno ne sape? Vieni qua Oppia! Non vedo l'ora di fare l'amore Per la prima volta con te Ehm Veramente lo stiamo già facendo Ah A chi mi critica Io Lo fotto Voglio stuprarti Lo prenderemo in culo A sangue Un'esperienza Cominzante Bella raga Cioè Vorrei che dei carli mi sponessi il buccio del culo Oh Cazzo guardio Vuoi ballare con me il biscottino? Madre di Dio Vieni qua dai Vieni qua Come on bitches Che bei tempi Una volta tiravo di bamba E sbocciavo dompe con quattro belle troie al tavolo Oh va che il tavolo è mio eh Sì scusami Te ne devi andare ho pagato io Ho capito Te ne devi andare Ma che cosa fai? Ma che sei fatto? Ma no Sono il cameriere Sono il cameriere Bello 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 Potrei passarci sopra Cercare di chiaremmi con lei E risolvere il tutto Esponendo le mie tesi in modo pacifico Sì credo che sia un'ottima Bello Che cazzo vuoi? Uno Due Tre Gridare E grideremo Studia Ok mamma But first Let me check a selfie Ok E' un'ottima E' un'ottima Perciò Inizio E' un'ottima E' un'ottima E' un'ottima E' SWAG! E' questo quello a cui andiamo incontro! E grazie al cazzo Ho la pelle chiara e sono vagamente biondo Ho la pelle chiara e il parrucchino E sono stato io a mangiare la torta Che cazzo è? Quindi ragazzi siamo qui su questo indie horror bellissimo R2 Portatelo in clinica Fermi 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 Aicca! Aicca! Casa cacacacasa Cacacacasa Torniamo a casa Cacacacasa Cacacacasa Cacacacacasa Papà! Che cazzo vuoi? Io volevo solo dirti che... Enormemente puoi! Si d'accordo va bene però... Che cazzo vuoi? Se mi lasci parlare... Enormemente puoi Ok però... Che cazzo vuoi? Ok il problema è che... Non si capisce un cazzo! Eeeh ma che palle! Forse non tutto è perduto Ehi ragazzi... Ci sono anch'io Che ti dice? Sei proprio portata per questo lavoro Si si sei determinata caparbia Oh bravo che figo! Oh bravo che figo! Eeeh! Mamma mia! E quindi ti stavo dicendo che adesso sto cercando di dare assistenza gratuita agli anziani No ma veramente ma che cosa carina Oh che cazzo fai vecchio di merda! Hashtag vinciamonoi Hashtag vinciamonoi Vabbè beh Hashtag ma vaffanculo va Ah! Eh 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 se siamo forti come il palazzo Eh 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 Mi sa che non vinciamo proprio cazzo Eh 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 di cazzo Eh 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 di cazzo Eh 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 Ah si? E allora mi buppate la fava! Ma noi conosciamo la tua più grande paura Scoprire che in realtà ho una parrucca? Adèh! E ora eccomi qui A camminare senza meta E con un cazzo di un affettoio addosso Ma prima di dirvi la frase figa finale Mi accendo una sigaretta Bevo una coca cola E faccio un primo piano sulle ciabotte di Fonseca Perché la vita è come un iPhone A volte ti siete al 100% Ma se ne rimani a fissare il Whatsapp con un ritardato In 20 minuti sei allo zero Ma dai per favore ma che merda Ragazzi è finito Ma dove pensi di andare? Voglio il bis bucconcino Un saluto bandegliano a tutti È finita Aspetta 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 E adesso? Se il video ti è piaciuto Iscriviti al canale Ma soprattutto Condividi su Facebook Chi non condivide verrà comprato da Mark Zuckerberg E dovrei farti anche mia moglie Ti piace? Iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.